Non sono un cacciatore di taglie. Mi hanno detto il contrario. So che siedi sul trono del tuo ex datore di lavoro. Jabba usava la paura. Io governerò con il rispetto. Eravate tutti capitani sotto Jabba the Hutt. Sono qui per una proposta reciprocamente vantaggiosa. Perché parlare di conflitto quando la cooperazione può renderci tutti ricchi? Cosa ci impedisce di uccidervi? E prendere ciò che vogliamo? Se foste stati così insolenti con Jabba, sareste finiti in pasto al suo serraglio. Prego. Parlate liberamente.